Musica Capisce che la vittoria è tutta sua Signori, applausi, applausi Manuel Todaro Selle Italia, guerciotti, elite Manuel Todaro, una vittoria fortemente voluta un'azione strepitosa, davvero una grandissima giornata Sì, inizialmente sono partito male però poi diciamo che man mano che andava avanti la gara sono uscito a incrementare e sono sempre tirato avanti e è andata bene Una dedica per questa bella vittoria? Ma io la dedico al mio allenatore Elvis Zucchi e al mio mental coach che mi segue da praticamente inizio stagione e stiamo facendo veramente un ottimo lavoro e lo ringrazio di cuore A Fanzolo di Vedelago Eva Lechner E signori e signori applausi meritati anche per Arrivando, eccola, eccola Alza le braccia al cielo Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti.